Vorrei portare un altro ricordo di Maurizio Toresano, questa volta ricordo di Guido Rutta che è stato direttore di doppiaggio di Berserk, di Antaro e direttore di doppiaggio presso tutte le società di doppiaggio milanesi, compresa la Mera. Appunto, il ricordo di Maurizio Toresano è questo, dice con Maurizio eravamo colleghi e amici, dice purtroppo ero una persona molto riservata, quindi non posso rivelarti molto, però dice ogni tanto uscivamo la sera con alcuni colleghi, ogni tanto fa capire che era una cosa che non accadeva spesso ma accadeva insomma abbastanza di rado e insomma dice se n'è andato all'improvviso, se non sbaglio dice se non ricordo male è morto per delle complicazioni epatiche, ci tenevo a dirvi questo, poi ci tenevo a dirvi anche un'altra cosa su Carlo Nardini, Carlo Nardini è stato fonico di doppiaggio di Dragon Ball alla Mera che nello studio 4, ci tenevo a dirvi questo e come al solito, buona visione.